Buongiorno, siamo qui con Alvaro Cariglio Imenes che va a parlare di Fuerteventura cosa sta nuova nel prossimo anno? Perché i turisti vengono a Fuerteventura? Buongiorno, siamo qui con Alvaro Cariglio Imenes che è da Fuerteventura cosa dovremmo vedere in Fuerteventura? Cosa è lì per il mercato LGTB? Fuerteventura è un paese buono è fatto per disconnere, per rilassare per avere fanno in una buona atmosfera tutto è così wilde e naturale il luogo, le piazza, tutto la gente è davvero open-minded quindi è una destina perfetta per la comunità LGBT o il mercato di cui vuoi dire la gente è davvero amicizia, è open-minded siamo davvero simili con gli italiani e abbiamo una grande comunità di italiani non solo visitano, ma vivendo lì quindi la gente italiana può sentire a casa dove si va a arrivare? dove si va? c'è una speciale paese? c'è un paese? c'è un paese? c'è un paese? c'è un paese? ma si può fare tutto che vuoi puoi essere fatti fatti in fronte di famiglia e sono davvero contenti con la gente a conto spendendo le vacazioni non importa se fatti 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 se sei fatti fatti fatti? se sei fatti 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 è tutto Grazie.